Sacco Mani minaccia le dimissioni da Ministro dell'Economia se non si terrà una politica economica come lui ha indicato e quindi bisogna scegliere o l'IVA o l'IMU. Lei cosa ne pensa? Sacco Mani dovrebbe dimettersi per il semplice motivo che non ha azzeccato una previsione da quando è Ministro. Il suo ottimismo, come gli avevamo detto noi, è stato smentito dai fatti e in più c'è un peggioramento dell'economia reale incredibile. Si assurrendi conto che i dati ufficiali dell'Istat dimostrano che questo governo ha peggiorato la situazione economica del Paese. Per cui io credo che se debba dimettersi non debba dimettersi per ripicche o discussioni all'interno della maggioranza per una questione semplice elettorale ma perché il suo Ministero ha fallito. È possibile secondo lei rinviare l'IMU a dicembre o bisogna trovare un'altra soluzione? A questo governo ci ha abituato a tutto, per cui è uno specialista dell'ETA, uno specialista dei rinvii, per cui magari è capace anche di rinviare l'aumento dell'IVA. Noi diciamo una cosa semplicissima che l'aumento dell'IVA oggi sarebbe mortale nei confronti delle piccole e medie imprese, dei commercianti e annienterebbe qualsiasi possibilità di ripresa dei consumi nel Paese. Per cui sarebbe un vero e proprio attentato all'economia.